Ecco, questo accade ogni anno con il rapporto di Amnesty. Ogni anno Amnesty ci presenta un rapporto in cui si fa riferimento alle tante violazioni dei diritti umani e del mondo. E si parla anche del nostro Paese in questo rapporto. E per quanto riguarda il nostro Paese, si parla tra mai ogni anno, penso negli ultimi 10-12, anni, della condizione dei migranti, dei riferenzi asilo, delle persone che sono costrette a fuggire dai propri Paesi a causa dei conflitti, della violenza generalizzata, della percepzione. E Amnesty ne parla in modo più dettagliato. Spesso sollecita risposte vitali in sede europea, richiama la necessità di avere degli standard di riformi. E aggiungo io che Amnesty sta a fare anche avvocasi.